Siamo qui a scioperare perché è stato disdettato il contratto integrativo che noi avevamo e in qualche maniera questa disdetta vuol dire una decurtazione del salario dal 15 al 18%, equivalente a quasi 200 euro al mese per ogni maestranza, quindi voglio dire è lecita il nostro sciopero. Faccio presente che in precedenza c'è stata tolta la quattordicesima e questa quattordicesima era stata in parte reintegrata con uno 0,60% e uno 0,75% spalmato nell'arco delle nostre mensilità. Ma come va la fabbrica? La fabbrica, il reparto liquidi è in fase di un grande sviluppo. No, no, poco no, poveni! Piscali è quantità! Grazie a tutti.